Benvenuto! Ti mostriamo di seguito il procedimento per caricare un corso personale sull'interfaccia Uweb Formazione. Accedi con le tue credenziali di Ateneo a Io et Unipv e seleziona alla voce I miei corsi, posizionandoti quindi nella sezione dedicata alla formazione. Nel tab Curriculum formativo seleziona Corsi frequentati e clicca poi su Corso personale. Per Corso personale si intende un corso svolto al di fuori dell'attività lavorativa. Qui potrai aggiungere anche corsi svolti precedentemente. Compila il form avendo cura di inserire tutti i dati a tua disposizione e poi clicca su Salva. Troverai i tuoi corsi personali nel Curriculum formativo nella sezione dedicata.